Quante delle reazioni hai? E non mi dire che sei puro come un giro, che sei un padre perché c'hai un figlio, credi che basti avere un figlio per essere un uomo e non un coniglio. Quante delle reazioni hai? Quante delle reazioni hai? Quante delle reazioni hai? Quante delle reazioni hai? A me lo sai. Non mi volevo ricordare che una dimensione anche si potrebbe essere tua vita. Quante volte, quante dai? Ci hai pensato? A me lo puoi dire. Quante delle reazioni hai? Quante delle reazioni hai? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.